Ci serve il tuo aiuto. Amadresa Jalali potrebbe essere impiccato da un momento all'altro. Amadresa Jalali è un ricercatore di origine iraniana e residente in Svezia, esperto di medicina di disastri e assistenza umanitaria. Arrestato nel 2016 a Tehran, è stato condannato a morte a termine di un processo iniquo. Secondo le ultime notizie che ci arrivano dall'Iran, la sua esecuzione sarebbe imminente. Aiuti a cerchiere che sia liberato.